Viviamo in una realtà globale, interconnessa, che non si ferma mai. Il mondo degli investimenti è sempre più dinamico e internazionale, i mercati finanziari sempre più soggetti ad alti e bassi. Comprendere a fondo questi scenari è fondamentale per potersi muovere nella giusta direzione se vuoi fare un investimento. Ognuno di noi ha i propri obiettivi finanziari, che variano in base alla personale propensione a rischio. Quali sono i tuoi? Dove, come, quando e quanto è opportuno investire? Chi può aiutarti nella scelta senza incorrere in delusioni? La giusta soluzione finanziaria deve offrirti rendimenti, ma anche sicurezza. Noi di Cattolica Assicurazioni siamo un partner solido, affidabile, capace di ascoltarti e interpretare le tue esigenze. Per questo abbiamo ideato soluzioni di investimento e risparmio innovative, flessibili e modulabili. Potrai diversificare il tuo capitale, investendolo in un mix tra la gestione separata, che protegge il 100% di quanto investito, tenendolo a riparo dalle turbulenze finanziarie, e i tre fondi Unit Linked, per sfruttare le migliori opportunità dei mercati obbligazionari e azionari in tutto il mondo. Potrai creare così il tuo investimento su misura, accedendo ai diversi mercati in modo semplice e a riparo dalle incertezze di un approccio fai-da-te, e con l'opportunità di poter modificare in qualsiasi momento le combinazioni del mix, se cambiano le tue esigenze o le tue aspettative. Cattolica e investimento scelta dinamica 2.0 ti permette di creare il giusto mix assicurativo e finanziario con un versamento minimo di 5.000 euro. E dopo solo un anno potrai riscattare il capitale, parzialmente o totalmente, o scegliere di convertirlo in una rendita, senza rinunciare ai benefici di un tradizionale prodotto assicurativo. Se vuoi risparmiare a piccoli passi, Cattolica e Risparmio Piani Futuri 2.0 è il prodotto che fa per te. Con appena 80 euro al mese, costruisci il tuo futuro sfruttando un mix personalizzato e modulabile nel tempo, tra la gestione separata e i tre fondi Unit Link. Se sarai costante nei versamenti, avrai inoltre diritto ad un bonus a fedeltà, che dopo 10, 15 e 20 anni incrementerà il tuo capitale rispettivamente del 5, 10 e 15% rispetto al premio iniziale. E al termine del piano di versamenti potrai decidere se riscattare il capitale, convertirlo in rendita o lasciarlo in gestione per altro tempo, facendolo crescere ulteriormente. Risparmio e investimento. Cattolica è sempre con te. Risparmio e investimento.